Confindustria e FIIP hanno rinnovato a Roma un protocollo di intesa biennale per accrescere la rappresentatività del settore immobiliare sul territorio con l'obiettivo di rafforzare il peso del sistema confederale. La presenza nelle sedi di rappresentanza è presso il sistema delle camere di commercio. L'accordo prevede che Confindustria promuova presso le proprie associazioni di territorio la presenza di FIIP attraverso la stipula di accordi di adesione collettiva delle imprese per tramite dei collegi provinciali aderenti a FIIP. Le singole imprese dei collegi provinciali FIIP risulteranno iscritte alle territoriali di Confindustria in qualità di soci ordinari di territorio con diritti e doveri specifici previsti nell'accordo e con diritto di voto in assemblea espresso collettivamente dal presidente del collegio. E vi sarà la presenza della federazione in comitati o gruppo di lavoro tematici. Confindustria e FIIP si impegnano inoltre a realizzare iniziative di comunicazione o eventi specifici dedicati alle proprie componenti territoriali per incentivare e implementare la realizzazione degli accordi di adesione sul territorio. L'obiettivo dell'accordo Confindustria FIIP ha dichiarato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia è quello di consolidare l'esperienza fin qui maturata allargando anche ad altri territori la positiva sperimentazione di accordi di adesione collettiva con declinazioni mirate sui singoli contesti dei diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa. Grazie all'accordo, aggiunto ancora Paolo Righi, presidente nazionale di FIIP, ci apprestiamo a programmare nuove iniziative comuni per il rilancio e la crescita del settore immobiliare su scala territoriale, forti di un'esperienza pluriennale in varie realtà provinciali e rafforceremo le sinergie con il sistema Confindustriale, contribuendo a realizzare manifestazioni, iniziative formative ed eventi congiunti al fine di promuovere proposte di interesse comune per lo sviluppo economico del territorio e di rilievo esterno su tematiche condivise. Un incremento delle collaborazioni di quasi il 17% in un anno con un monte provvigioni legato alle compravendite concluse attraverso l'interazione tra agenti immobiliari pari a oltre 71 milioni di euro ed un valore del portafoglio immobili condiviso di circa 6,2 miliardi di euro. sono alcuni dei numeri che fotografano i risultati raggiunti da MLS Replat, la piattaforma di Multiple Listing Service, incentrata sulla condivisione di annunci e incarichi più utilizzata in Italia, a mostrare la crescente propensione a collaborare da parte dei professionisti del real estate, il scopo di tagliare i tempi delle trattative e aumentare i volumi delle compravendite, è il rapporto realizzato dal centro studi MLS Replat Italia, che mette per la prima volta insieme le cifre relativi all'utilizzo della piattaforma lanciata 16 anni fa da Frim, la quale oggi copre una quota di mercato superiore al 60% degli operatori che si affidano alla condivisione per facilitare l'incontro tra domande e offerta di immobili. Nel dettaglio risultano 2061 le agenzie connesse al sistema per la condivisione, il 15,7% in più rispetto alle 1781 registrate lo scorso anno, una cifra che include tutte le strutture indipendenti o affiliate a un brand del franchising attive direttamente su MLS Replat o sulle piattaforme messe a disposizione dalle due principali associazioni di categoria, MLS FIAP e MLS FIMA, il cui funzionamento si poggia sempre sul sistema targato Frim. In totale, secondo la stima del centro studi, l'impiego della piattaforma MLS di Replat riguarderebbe una quota di mercato di circa l'8,1% sul totale delle agenzie immobiliari e operative nel nostro paese, con più di 3.500 professionisti coinvolti e la gestione di 27.433 incarichi su immobili. MetLife, gruppo leader nell'offerta di prodotti assicurativi in collaborazione con FIAP e Auxilia Finance, presenta valore affitto, la polizza assicurativa che aiuta il locatore ad affittare in piena tranquillità la propria casa, consentendo anche in caso di imprevisti di ricevere con continuità sia il canone mensile sia il pagamento delle bollette di luce e gas degli inquilini. Valore Affitto nasce per rispondere alle esigenze del mercato degli affitti e all'obiettivo di offrire questa certezza, messa sempre più in dubbio dall'instabilità economica degli ultimi anni attraverso uno strumento assicurativo semplice e accessibile, che offre vantaggi sia al locatario sia all'inquilino. Si tratta di un prodotto che vuole andare incontro alle esigenze delle varie parti che sono coinvolte nel mondo dell'affitto. Penso sicuramente alle agenzie immobiliari che vogliono arricchire la consulenza che danno ai propri clienti, sia a coloro che mettono in affitto il proprio immobile, sia a coloro che sono alla ricerca di un immobile da prendere in affitto, di un prodotto che di fatto rientra un po' in quello che è la promessa assicurativa. Fare un passo importante, un progetto come può essere quello di cercare di far rendere il proprio patrimonio, quindi il bene della casa, piuttosto che quello di fare un progetto di vita che è quello di prendere una casa in affitto. Che cosa offre Valore Affitto? Di fatto dona tranquillità a chi dà la casa in affitto di vedere prodetto il canone di affitto pattuito al momento della stipula del contratto, proteggendo da casi che poi sono abbastanza frequenti, in cui l'inquilino non può pagare. Diciamo che negli ultimi anni un po' l'ansia rispetto alla possibilità di vedere garantito il canone di affitto è stato aumentato anche dal periodo che abbiamo attraversato disoccupazione in aumento su varie fasce di età e di popolazione. Questo è un prodotto che andando a tutelare chi dà la casa in affitto, nel caso per esempio l'inquilino perdesse il lavoro, gli offre fino a sei mesi di canone di affitto pagati dall'assicurazione. Quindi qual è il valore aggiunto? Sicuramente quello di fare entrare due clienti nell'agenzia, chi offre il proprio bene e chi ha la ricerca di un bene da affittare, con la serenità di poter far fede ai propri debiti e di vedere rientrato il valore che ci si aspetta che il proprio immobile possa rendere. Con una copertura completa, perché io adesso ho citato la perdita di impiego, perché è sicuramente una delle casistiche di cui magari si parla di più, però a volte sempre in buona fede un inquilino, una famiglia non riesce a pagare l'affitto perché magari succede qualcosa di grave. Una malattia in un mondo dove noi abbiamo una grandissima presenza di lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori. Se la persona che percepisce il reddito si ammala per un periodo medio-lungo, comunque la stabilità del reddito è compromessa, è anche la capacità di far fronte agli impegni che si hanno economici. Il rischio di perdere la casa per la propria famiglia è sicuramente un qualcosa di sentito. In più, particolarità di questo prodotto che lo contraddistingue è il fatto che non solo tutela il canone rispetto al proprietario della casa, quindi al guadagno del proprietario della casa, ma tutela anche l'inquilino che nel primo anno, in caso si verificano questi eventi specevoli, ha anche la possibilità di avere rimborsata, l'importo delle proprie spese per le bollette. Pensiamo che sia un prodotto relativamente facile da collocare all'interno della proposizione di un'agenzia immobiliare, perché pur essendo molto semplice, è un prodotto a pacchetto, offre la possibilità di armonizzare la copertura con quello che è l'importo dell'affitto. Abbiamo tre piani, con dei massimali di indennizzo che variano a seconda di quello che è il canone.